Buongiorno ragazzi, vediamo come si risolve un problema di programmazione lineare. Abbiamo detto che la prima cosa da fare è fissare le variabili, scrivere la funzione obiettivo e scrivere il sistema di vincoli. Dopodiché va rappresentato il sistema di vincoli e la regione rappresentata nel piano la chiameremo regione ammissibile e poi andrà massimizzata o minimizzata la funzione obiettivo a seconda della richiesta del problema. Ora, sappiamo che per il teorema di Weierstrass, se la funzione è continua su un insieme chiuso e limitato, allora essa metterà punti di massimo e minimo assoluti su tale insieme. Che cosa vuol dire? Questo vuol dire che se la regione ammissibile che noi troviamo è una regione chiusa e limitata, allora esisteranno i massimi e minimi assoluti, altrimenti se la regione sarà illimitata dovremmo vedere se esistono meno. Inoltre vale il teorema di programmazione lineare che è molto importante, che sostiene che esistono massimi e minimi, cioè se esistono massimi e minimi, essi si troveranno in corrispondenza dei vertici della regione ammissibile, cioè il massimo e il minimo non lo andrò a cercare sicuramente fuori la regione ammissibile, assolutamente no, né tantomeno dentro la regione ammissibile. Se esisteranno massimi e minimi, questi si troveranno sui vertici, ma anche vedremo potrebbero trovarsi sul bordo della regione ammissibile. Cioè quello che mi interessa della regione ammissibile sarà il contorno, sostanzialmente, quello che si chiama in matematica il bordo. Quindi abbiamo detto che se la regione ammissibile è limitata, esisterà almeno un punto di massimo e minimo, che vuol dire almeno. Poniamo l'accento su almeno. Almeno vuol dire che se per esempio io sto cercando il massimo, questo potrebbe essere o uno o più di uno. Quindi abbiamo due casistiche. Se la soluzione è unica, cioè se c'è un solo punto di minimo, questo lo cercherò in un vertice della regione ammissibile. Altrimenti, se avrò più punti di minimo, questi li cercherò nel bordo del poligono. Non esattamente nel bordo, ma in un lato del poligono. Vediamo adesso se la figura ci aiuta, ci chiarisce un po' l'idea. Guardate un po' questa regione ammissibile. È un poligono di cinque lati, quindi cinque vertici. Supponiamo che le nostre curve di livello siano parallele ad uno dei lati di questo poligono. Se stessimo cercando, ad esempio, il minimo, noi lo dovremmo cercare, secondo il teorema di programmazione lineare, nei vertici. Ma adesso vediamo che il minimo è raggiunto dalla funzione obiettivo sia in questo primo punto qui, nel punto 02, sia nel punto 2,50. E non solo il minimo si ha in questi due punti, ma si ha per gli infiniti punti appartenenti a questo lato del poligono. Vedete? Questo è un caso particolare in cui la curva di livello è parallela, lo ripeto, a un lato del poligono. Se invece io stessi cercando di massimizzare la mia funzione obiettivo, cercherei il punto di massimo, il massimo, quindi lo cercherei in un vertice del mio poligono. E qui, se io mi sposto, traccio le curve di livello prima per questi due punti, poi per questo vertice qui, poi per questo vertice qui e infine per questo vertice qui, mi rendo conto che esattamente sostituendo le coordinate di questo vertice alla funzione obiettivo, otterrò un punto di massimo. Quindi il massimo si otterrà per le coordinate di questo punto. Torniamo indietro. Se invece la mia regione ammissibile fosse illimitata, allora potrebbe non esistere un punto di massimo o di minimo, ma dovremmo vedere bene il caso. Per esempio, io qui ho disegnato un esempio. Ho preso questa regione di piano, questa regione ammissibile, che è una regione illimitata, vedete, è un poligono illimitato, e ho poi disegnato le curve di livello. Queste curve di livello non sono parallele a nessuno dei lati del poligono, anche se non è un poligono questo, perché non è delimitato da 5, da lati, ok? È una zona illimitata. Quindi se stessi cercando il minimo, esso effettivamente si avrà in questo vertice qui, questo in rosso, vedete? Ma se stessi cercando il massimo, se io salissi sempre più con le curve di livello, questa è l'altra curva di livello per il punto 02. Supponiamo di tracciarne un'altra parallela per questo punto qui, ad esempio. Qui sicuramente, per questo punto qui, avrei un punto, cioè otterrei un valore della funzione obiettivo sicuramente maggiore rispetto ai valori ottenuti sostituendo le coordinate di quest'altro punto. Ma come vediamo, siccome la regione è illimitata superiormente, adesso non ci soffermiamo al disegno che è bloccato, però si estende all'infinito, verso l'alto, diciamo, potrei continuare a disegnare le mie curve di livello sempre più in alto, sempre più in alto, ma esse non incontreranno mai un vertice superiormente e quindi non avranno mai, quindi la mia funzione obiettivo non avrà mai massimo. Quindi se lo scopo era massimizzare la funzione obiettivo, il problema non sarà risolvibile. Se l'obiettivo in questo esercizio era invece minimizzare la funzione obiettivo, in questo caso la funzione obiettivo possiede un minimo. Grazie per l'attenzione.